Marzo 1917, venti mesi alla pace. Amici, proseguiamo 11-11, memoria Swiss World. Allora, prima avevamo cominciato con Kart, adesso cominciamo con Harry. Madonna. Ho rifatto la bocca, aveva un buco, grazie. Vimmi è qui. Ansia. Ok, divani. Ok. Ma io proprio così a tutti. Figo. Va bene, proviamo. Un'altra cosa per un Harry Lambert. Voi lo conosci? Questo sarà da l'unica prima di casa, no doubt. E' un po' di scemo. E' un po' di scemo. E' un po' di scemo. Ci sono da l'unica prima di casa. con il fatto che il fatto di fare un foto di guerra di guerra non sembrava reale mio padre sa che il suo meglio camera è morto non lo so lo so ma ho detto che non è in sua nature per lo so non 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 lo so ma io mi preoccupo di te Harry mi preoccupi con il giro Barrett Ok mi è stata una buona forza sto ovviamente mi è una cosa che ti ho avuto guardia la raligi perdonevi ma fotografia poter prendre la foto ma famiglia a casa mi piace di avere una foto tu es la sola fotografia aspetta ok ok ah ok ti ringrazio è di qua che devo andare vicino ai cannoni dell'optilaria si tu senti quello Harry? quello rumbo? questa è la vera vera, solo un po' di mille quindi questo grande bambino è Vimi Ricch, non posso aspettare per ottenere le mani e prendere la volta da Bosch, questo sarebbe una buona foto, front page della star, ora posso Guarda ora! Barbara desidera che gli scatti una foto Dove cazzo è Barbara e te? Ah, è lì Hmm... Qua? La vita è una cosa diversa, da quel momento che si chiedono, per me, è stato il maggio. Sempre mi chiedeva, come mi ha detto alla mia vita senza lui. Eh, eh, che... Che li sugi. No, no, no. Ok E' un po' piada. Gentile. E' un po' piada. Ascoltando la radio. Ah boh, io provo, cioè... Cazzo, sono un padre che ha perso suo figlio, non trattatemi così di merda. E dai. Sì. 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 Va bene, so... Some think I'm mad to seek the same information from the same places, day after day. But persistence always pays off in the end. Catherine. For today, I learned of his location. I know where max is now. Recruitment always need good patriotic pictures. We need more troops if we're going to win this thing. e ci saranno a causa di vostra foto, son. Capitura la immaginazione di vostri amici. Aggiungi le emozioni. Hmm, sembra che ci sono stati trasferiti qui. Devo dare loro il once-over. Dismissi. Ho un'idea, segui mi, sarà divertente. Ok. Come jump in? Ok. Bello questo giro in barca, in barca si, in roste. Ok. Questa è mia unità. La maggior parte di un paese di Amritsa. Deve dovete visitare. Benvenuti a questa parte della linea, Geri. Io sono Major Barrett. E io sono il mio nuovo amico. Plea di metterciare. Questo dovrebbe fare una buona foto. Questa è forse quella migliore. Ci può stare? Ci può stare? Mi manca... Ah ok, il vagono è del vino. Questa è forse quella migliore. E io lo so... Il Major ha fatto una possibilità. Il potrebbe avere un fotografo che vuole. Ma lui ha chiesto di me. E io ero desperato non per lo sapere. Allora, quando mi ha chiesto di rendere. Allora, qui si fai... Allora ho messo. Allora! 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 Bisogna ottenere la presenza per un drink, è un buon karma, sai questo termine? Karma? Non importa, ti ottengo acqua, io ottengo freddo, andiamo! Prendiamogli l'acqua, non capisco che... vai! Sì, è una piazza, Tommy! L'acqua ti preoccupa, Harry? Non potremmo avere questo ora. Tra la tua camera, questo non può essere gentile, ma è necessario. Sì, è una piazza, Harry. E' un ordine. Hey, Harry! Ho, ho parlato, che mia unità è in fronte. Hai anche in fronte? Hai un avventure, tu e io! Kurt, grazie! Il dispositivo è ancora fuori. Potresti vedere? Sì? Non posso aiutarti, Kurt. Allora, riparare il dispositivo. Ho sentito che gli esercizi sono arrivati oggi. Guarda. Sembra molto indicata, eh. C'era un'altra città ma buona un certo metodo volta? Pensavo che questo fosse un oggetto con lo planetaggio. Ok. Ah, serve dello spago. ok questo è quello? no, non so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 No. No. Non so se sono un mostro o se sto sbagliando qualcosa. È una minchiata. Ok. 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 qui provo a riscendere magari potre che farà fra pirata magari mi scendendo dai no bene peo no nulla sono sempre io allora mi tocca fare il giro lungo perché li è incastrato grande non si sposta ok no non c'è niente sto cercando tutta la base per l'occhio paesi giorno 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 grazie attias non benissimo d'accordo con lui che chiamare mille vabbè però due tedesco non è francese pesata valiantat l'affiziere che non è l'acqua ciao ma dormite quelli il metti? scomodo vedi che posso passare vabbè vaffanculo dai non so cosa fare non so cosa fare perché non sto trovando quello che cerco non è che non ho nemmeno capito bene cosa cercare quindi ehm no no sono un idiota sono un idiota proseguiamo proseguiamo adesso ci c'è l'asso lo tengo tu ci il l'asso ti ti ok aspetta Ok. Non credo sia vivo però, eh? Pile 1917, 19 mesi alla pace. Non c'è tedesco, adesso. Andiamo. I will do everything they ask of me. I will do my duty. Pünktlich wie immer. Du löst heute Lothar. Er ist immer noch irgendwo da unten. Jum. Ich habe gehört sie versetzen dich, Kurt. 4 Monate sind eine ganz schön lange Zeit. Hoffentlich leben wir dann noch. Dear Katrin. I was sent underground again today. To the tunnels where we listen to the enemy. Lothar's shift ended as mine began. Can I show some men do not take to the darkness, but as you know, I've grown accustomed to it well. Max was scared of Doric when he was young, do you remember? Leave the lantern on, Papa, he would say. It would burn until morning. Hello? Nimm dir eine Lampe. Ohne siehst du rein gar nichts. Ok. E' diventato All in the Dark. 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 Of course. Ejuando aus AWS, Looperez, no così no 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 ah qui è completamente sbagliato ah quindi che cazzo serviva a lui? forse era solo vicino alla torcia io non sento una cosa con te sbagliato nel mio cuore io vedo cosa sto facendo io credo che sei un ragazzo e siamo ancora qui nel settembre tu dovresti non prendere un uccidio se ha un cuore e e e e e madonna ah cazzo viene la parola per la lanterna va bene amici dai io direi che della prossima parte proseguiamo e 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